Il ringraziamento e il riconoscimento mio personale di tutto il governo e credo di tutti i cittadini, anzi sono certo, alle donne e agli uomini della polizia, delle forze dell'ordine che quotidianamente garantiscono sulle strade d'Italia la nostra sicurezza. Un lavoro difficile, un lavoro che richiede impegno, dedizione, una missione vera e propria di cui siamo assolutamente riconoscenti e che svolgono nel modo migliore e a livelli di eccellenza che ci sono riconosciuti da tutti i paesi europei e non solo. Con queste parole il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha voluto dire grazie alle forze dell'ordine dopo la messa in cattedrale a Lecce, ufficiata dal Vescovo Metropolita Domenico D'Ambrosio in occasione delle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Il messaggio arriva dopo la cattura a Monte Sant'Angelo Foggia di Franco Libergolis, ritenuto capo indiscusso della mafia garganica tra i 30 latitanti d'Italia più pericolosi. La cattura di Libergolis, latitante, superlatitante, non è avvenuta a caso. Siamo venuti qua un mese e mezzo fa e abbiamo costituito un gruppo specializzato per la cattura sua. Ci siamo riusciti, questo è il metodo. Là dove serve intensifichiamo le iniziative mettendo le strutture investigative adeguate perché la lotta al crimine non deve avere quartiere e i risultati lo confermano. Sono molto soddisfatto di quello che si è fatto in questi due anni. Stiamo facendo la Polizia, la Magistratura, stiamo facendo tutti insieme grandi cose e continuiamo su questa strada con grande determinazione. Dello stesso parere anche il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, anche per lui il tema della sicurezza è tra quelli cardine di questo governo.